Il numero mio, 36 fuoricchione, 36 gay Ascarolla rinforza pocazza, 6 Ascarolla E t'ha nel femmine gruppo, il diavolo, 77 Ragazzi, sapete perché si dice 77 il diavolo? E si è andata al femmine, mettono il punto alla coppia Perché si racconta, c'è un racconto Marito e moglie, stavano in un romano A un certo punto, il marito si sbanda in due suoi Facette il coro mio perché si sbanda E dice, ma è già un noto rinforzo Ecco qua, dice che rimane a sera se vengono a figli all'anima mia Certo, c'è un telefono, non ti preoccupare E' a schiglia La sera, la notte è presa Chi è? Sono con il diavolo, è che buo Ma c'è un tempo che c'è l'anima mia Non ti preoccupare, è spietta La proposta è pronta Dice, io ti voglio raccontare l'anima mia Però, io ho superato le prove E c'è il tuo diavolo, che prove ho già superato? Ho superato queste prove ecco Se mettete le mani sotto, si tirava un'opila con il bacio E c'è, addrezzato Chi ha addrezzato mai un'opila di fessi? Dottor, ma che si è rinforzato? Dottor, ma che si è rinforzato? Ah beh Ci sto studiando anche l'opila L'uomo si sta andando in giustizia La femmina si è rinforzato Però, vedi che prove Facendo un po' Si è rinforzato, ne vo way t'aspo sa vasta sessantatri o bobole russi no and